Ciao e benvenuto ad un nuovo metodo di lettura che sono certa ti piacerà tantissimo e per questo già da subito ti invito a rifarlo e condividerlo sul gruppo facebook della Tarot Academy. Mi raccomando segui il regolamento perché sennò non possiamo approvare il post. Questo metodo ti aiuterà a trovare l'anima gemella o se l'hai già trovata a vedere se appunto è lui o è lei. Si fa con due mazzi di carte uno io ho scelto l'oracolo dei registri akashici il mio nuovo oracolo e poi il mazzo di tarocchi. Se usi solo due gli oracoli insomma puoi scegliere il mazzo che i mazzi che vuoi l'importante è che siano due. Allora mescoliamoli un attimo e intanto appunto questo metodo è per chi cerca l'anima gemella o per chi pensa di averla trovata si adatta ad entrambi. Ok uno e poi mischiamo pure l'altro. Ok allora venite con me. Cinque carte che poi diventano chiaramente dieci. Carta numero uno in centro, carta numero due in alto a sinistra, carta numero tre in alto a destra, carta numero quattro in basso a sinistra e carta numero cinque in basso a destra e poi passa ai tarocchi. Quindi carta numero uno sopra la prima, carta numero due, questa è saltata fuori, in alto a sinistra, carta numero tre in alto a destra, carta numero quattro in basso a sinistra, carta numero cinque in basso a destra. Allora prima carta è il presente. C'è o ci sarà l'anima gemella nella mia vita? Andiamolo a vedere. La legge del tre e il tre di spade. Allora innanzitutto viene un'abbondanza di tre. Ok quindi diciamo che l'anima gemella ha a che fare con più corpi della tua anima. La legge del tre ci ricorda che noi abbiamo tre non solo il corpo fisico. Ok il tre di spade anche ci rimanda alla mente. Quindi innanzitutto quello che ti dice è tu hai pensato e hai chiamato nei tuoi registri akashici hai scritto l'incontro con la tua fiamma gemella. Quindi ci sarà. Però essendo un incontro come dire più che dato che c'è il tre di spade unito alla legge del tre sarà un incontro molto mentale. Quindi ci sarà e la tua anima gemella a sua volta sarà una persona che si sposerà con te in quello che pensi. L'anima gemella è un'anima che si combacia molto con alcune parti di noi. Ecco nel tuo caso combacerà a livello mentale perché tu stessa cerchi una persona che sia mentalmente settata come te. Quindi per adesso diciamo c'è o ci sarà la risposta è sì. L'hai prevista nella tua vita. L'hai proprio programmata anche nel tuo registro akashico. Carta numero due. Chi è? Questa carta la caratterizza ci dà delle caratteristiche fisiche. Abbiamo la legge della conoscenza e il cinque di bastoni. Allora la caratterizzazione è sicuramente una persona come dire acculturata. Può essere un insegnante, può essere un bibliotecario, può essere uno scrittore. Ok? Ed è anche una persona appunto che ama molto il suo lavoro ed è una persona che sa molto impegnarsi in quello che fa. Quindi la caratterizzazione è principalmente sul lavoro. La legge della conoscenza unita al cinque di bastoni ce la descrive questa anima gemella soprattutto a livello di ciò che fa. Questo vi aiuta a riconoscerla. Quindi sarà una persona che ha a che fare per lavoro bastoni con i libri. O potrebbe essere un lettore di registri akashici perché la legge della conoscenza è collegata alla biblioteca akashica. Quindi potrebbe anche essere una persona, un lettore di registri akashici, potrebbe anche essere un maestro di rechi e ciutera, però non troppo perché la caratterizzazione deve essere con i libri. Quindi diciamo una persona che ha a che fare con i libri. Quindi ripeto uno scrittore, un lettore di registri, un bibliotecario, un insegnante o anche un libraio, un editore. Carta numero 3. Il suo passato. Questo ci descrive il suo passato, ci dà altre informazioni. Abbiamo Natura e il quattro di bastoni. Nel suo passato è stata una persona che ha avuto per esempio molti viaggi, per esempio ha viaggiato molto anche qui per lavoro. È una persona che ama conoscere, l'abbiamo visto alla legge della conoscenza, quindi è una persona intellettuale, abbiamo visto anche che la riconoscerai, l'hai prevista proprio intellettuale, questa mente con le spade nella legge del 3. Quindi nel suo passato c'è tanta esperienza anche con madre terra. Quindi potrebbe o essere nato in un posto di natura o aver viaggiato molto anche per lavoro e aver conosciuto anche molte altri popoli, essersi confrontato anche con altre realtà della terra. Quindi è una persona molto interessante e anche molto sensibile alle tematiche ambientali, quindi di madre terra e dell'ecologia. Soprattutto in passato se ne è occupato. Carta numero 4. Eccoci qui. Come o in che modo lo conoscerai o lo hai conosciuto? Quindi se già pensi di averla trovata, la tua anima gemella, questa carta ti darà un... eccola. Questa carta ti darà una conferma su come vi siete conosciute. Se invece non l'hai ancora conosciuta, su come vi conoscerete. E abbiamo la legge del nome e l'asso di spade. Allora, in realtà vi conoscerete, tra virgolette, in tutt'altro modo. Anche qui ci sta questa presa intellettuale, questa presa di cervello tra di voi. Quindi sarai attratta e vi riconoscerete quasi all'istante, quasi immediatamente. C'è proprio il senso di riconoscimento. Quindi sicuramente il suo nome ti risuonerà. Quindi potresti o appunto già averlo conosciuto, quindi esserci un rincontro, oppure potrebbe essere una persona al cui nome sei già legata in qualche modo. L'asso di spade anche parla proprio di questa idea, cioè quando lo vedi lo riconosci. Questo è molto importante, ci sarà un senso di riconoscimento. Mentre appunto in altri punti della lettura ci hanno descritto lui nella vita viaggiava, è stato nella natura, eccetera. Qui ci sarà proprio chi dice lo riconoscerai perché ci sarà questo senso di riconoscimento. E se l'hai già incontrato e hai avuto questo senso di riconoscimento, è una conferma che sia lui. Ultima carta. Come si evolverà tra voi? Cosa peraltro più importante. Come andrà e come sarà l'evoluzione tra di voi? Allora, scacchiera e il tre di bastoni. Allora, l'evoluzione andrà bene soprattutto se accetterete di crescere l'uno grazie all'altra. Questo è molto importante perché vi siete accordati così prima di nascere. La scacchiera ci dice che le anime appunto prendono degli accordi proprio per far sì che vengano vissute determinate esperienze sulla terra per poter crescere. Quindi potrebbe esserci un'evoluzione tra di voi sia appunto personale, di amore, eccetera, ma anche lavorativa. Anche sempre, dato che siete legati moltissimo a questa conoscenza, eccetera, può darsi che oltre alla parte romantica ci sia anche proprio una comunione di interessi. Quindi potreste anche nell'evoluzione lavorare insieme, fare qualcosa insieme. Nella versione più romantica l'anima diciamo gemella è sempre del sesso opposto e diciamo un po' la persona, come dire, nella versione romantica ideale per noi, eccetera, l'amore della vita. Ma in realtà l'anima gemella può essere anche un compagno di viaggio, una compagna di viaggio, una persona con cui crescere e lavorare. E quindi in questo caso, oltre alla parte romantica che ci può stare, ma sicuramente ci sarà anche una parte di vita, di lavoro, di evoluzione personale fondamentale tra di voi. Perché è proprio quello che avete programmato poi sui vostri registri e che andate alla ricerca. Perché comunque non siete persone che si accontentano della storia, ma avete tanto bisogno anche di un matrimonio intellettuale, cioè di avere qualcosa da dire, qualcosa in comune con quella persona, di condividere un cammino. E questo appunto è possibile. Quindi non ti preoccupare perché la riconoscerai al volo, se vuoi degli indizi, appunto, quel tipo di lavoro connesso ai libri, è un passato di viaggi e di esperienze nella natura. Soprattutto però ricordati che è un fatto che ti sei previsto. Quindi non temere di non incontrarla, la riconoscerai subito. Spero che questo metodo ti sia piaciuto, è molto carino. Me l'aveva, diciamo, donato una di voi, Francesca. Io la ringrazio, l'ho un pochino riadattato e modificato, però diciamo che sono sempre bene accetti i vostri contributi e se posso poi, insomma, utilizzarli e condividerli con voi è per me un grandissimo piacere. Quindi grazie, ancora una volta, a Francesca per avermi ispirato questo metodo, per avermi regalato questo metodo e che io poi ho un pochino, diciamo, cambiato e adattato per renderlo più fruibile anche per voi che doveva diventare un video. Divertiti a rifare questo metodo e condividilo sul gruppo Facebook della Tarot Academy. Se non sei iscritto, trovi sotto nell'info box il link per iscriverti. Se il video ti è piaciuto, regalaci un like e se non sei iscritto al canale YouTube delle Legge della Magia, farlo subito. Ciao e grazie.